Il mio rapporto con la tradizione dell'arte è parzialmente legato ai miei studi, nel senso che ho studiato storia dell'arte, in particolare quella bizantina all'Università di Milano, in cui mi sono laureata, e parzialmente emotivo, nel senso che ho un genuino trasporto, da questo punto di vista, verso la storia dell'arte, professionale, perché essendo un artista non posso ignorarla, sarebbe come un contadino che non tocca la terra, e anche emotiva, perché ho avuto la fortuna di crescere con delle persone molto pazienti, che erano i miei genitori ma anche i miei nonni, proprio perché erano in pensione, avevano tutto il tempo necessario da dedicarmi e anche quello che non avevano lo inventavano, e mio nonno fin da piccola mi ha messo in mano i campionari dei libri che lui stampava nella tipografia dove lavorava, e molti di questi libri erano libri d'arte, in particolare avevo letteralmente consumato il libro su clé, e non sapevo ancora parlare letteralmente quando guardavo questi libri, quindi non riesco a immaginare me stessa senza dei disegni o delle immagini intorno a me.